Dottore Garuso, parliamo un po' dell'attività delle volanti, del servizio volante e soprattutto dell'impegno nei confronti di questa città. Sì, mi sono insediato circa otto mesi fa e con i ragazzi abbiamo subito, instaurato un rapporto di stretta collaborazione e siamo intervenuti in tutti gli ambiti delinquenziali, così possiamo dire, della città. Una città difficile, come immaginabile, e abbiamo esplicato il nostro impegno in diversi campi. Molti gli arresti operati in questi sette mesi, come sappiamo, le volanti dovrebbero occuparsi, o meglio, devono occuparsi in maniera preponderante del controllo del territorio. Però il controllo del territorio alcune volte, se fatto bene, può esitare anche nella individuazione del responsabile di chi ha violato la tranquillità di un certo quartiere oppure di una via. Facciamo un esempio, sia San Francesco che riguarda questi ultimi giorni, ma dobbiamo ricordare anche Fondo Gesù. Sì, quartiere difficili è quest'ultimo. San Francesco, l'arresto di ieri sera, un litigio fra due persone, un cinquantenne con un poco più che trentenne, è esitato poi in un accoltellamento, una prognosi di 30 giorni da parte del ragazzo. Sono cose che non dovrebbero accadere perché il luogo che è stato teatro la vicenda è una piazzetta frequentata anche da anziani, da ragazzi. E quindi non potevamo permettere che la facesse franca l'accoltellatore, così possiamo definirlo. Infatti è stato intracciato dopo pochissimo tempo dal fatto e poi arrestato dalle volanti. L'attività delle volanti dunque è il controllo del territorio. Per i cittadini che cosa rappresenta questo controllo? Rappresenta sicurezza, tranquillità, rappresenta la possibilità di circolare liberamente senza sentirsi compromessi, soprattutto in colomità. Il controllo del territorio che abbiamo voluto tradurre anche con servizi specifici ricorderà lei l'istituzione del poliziotto di quartiere, è un servizio che noi ancora garantiamo senza soluzioni di continuità dal gennaio di quest'anno. Adesso con il camper, è avuto un ottimo ritorno in temi di pubblicità e soprattutto in temi di riconoscimento da parte dei cittadini che hanno salutato con moltissimo favore. La presenza, ricordiamo interventi specifici del poliziotto di quartiere, i parcheggiatori abusivi, è un problema che in città abbiamo da diverso tempo. Ebbene, la presenza costante, sottolino costante, dei poliziotto di quartiere presso la mensa dei poveri ubicata all'interno del mercato rionale, vicino al Duomo Cittadino, ha garantito la regolarità della somministrazione dei pasti da parte della confraternita e garantendo anche la sicurezza. Ampio riconoscimento ci è stato dato anche da Don Ezio Limina, il quale anzi ha richiesto espressamente alle volanti questa presenza perché era idea ancora una presenza che riesce e di riuscita a organizzare bene le attività benefiche che si svolgono all'interno della mensa. E poi l'allontanamento dei parcheggiatori abusivi, parlo sempre dei poliziotto di quartiere, ne hanno fermati più di 4-5, portati in questura, identificati, sequestrato il provento delle attività illecite, delle attività di parcheggio. Combinato a una contravvenzione, quello che ovviamente la legge ci consente di fare, chiaro che ci vorrebbe più un intervento strutturale per risolvere questo problema, ma intanto ogni giorno abbiamo garantito ai cittadini di Crotone, alle signore in giro per fare la spesa di poter circolare liberamente, quantomeno nelle vie centrali, per fare acquisti e varie commissioni. Dobbiamo dunque dire che siccome si parla sempre di organici sottostimati per quanto riguarda le forze dell'ordine, quando si vuole fare si riesce a fare con l'entusiasmo anche lì dove magari ci vorrebbe una presenza maggiore di uomini? Grazie per la domanda che mi ha fatto ricordare che io eredito un ufficio volanti formato da soltanto 62 unità. Adesso per problemi di carenze personali siamo arrivati al numero quasi 50, che è davvero molto poco. Nonostante ciò, con l'impegno, con la costanza che i miei ragazzi hanno garantito ai servizi, siamo riusciti comunque a non far mancare un numero adeguato di volanti sul territorio. E addirittura i colleghi hanno fatto per mesi straordinario in eccesso. Straordinario che, attenzione, non viene sempre pagato, non viene sempre retribuito. E quindi devo ringraziare pubblicamente, lo faccio in questa sede, in questo momento, che un po' riepiloga l'attività svolta da me in questo ufficio. Ringrazio davvero sentitamente i colleghi, tutti, tutti i ragazzi che non hanno guardato l'orologio, non mi hanno chiesto se il prossimo mese avrebbero avuto garantito lo straordinario in termini appunto di guadagni economici, di lucro immediato. E cionostante sono messi in macchina e sono andati a lavorare. Abbiamo fatto arresti importantissimi, arresti per incendi dolosi. Quest'estate, uno in particolare, abbiamo trovato colto in flagranza di reato un piromane. Due giorni fa ne abbiamo purtroppo denunciato uno, dico purtroppo perché siamo arrivati dieci minuti dopo che il tizio avesse già appiccato il fuoco. Quindi in assenza di flagranza, purtroppo non abbiamo potuto procedere all'arresto, ma comunque l'abbiamo denunciato, l'abbiamo trovato in possesso di cinque accendini funzionanti e di materiale gommoso che lo utilizzava come innesco per provocare quindi incendi più bassi interessando più aree del terreno preso di mira. Una domanda che le faccio, per quanto riguarda le volanti, anche il controllo per vedere lo spaccio della droga, per vedere se c'è un uso della droga nei giovani, soprattutto il fine settimana, insomma c'è anche questo tipo di controllo? E' anche questo un servizio delle volanti? Sì, servizio fatto molto spesso. Purtroppo emerge, dopo otto mesi possiamo dire, una realtà preoccupante. Troppi, troppi giovani, troppi ragazzi, parlo di ventenni soprattutto, fanno uso di sostanze sopefacenti. Ne abbiamo denunciati tantissimi piccoli sequesti, è vero, ma spie che ci lasciano pensare a un'attività di procacciamento di questa sostanza che non conosce fine, non si arresta. Continuiamo su questa strada ovviamente. Per quello che compete o pertiene alle volanti, noi possiamo controllare il territorio, quindi contro la volante gira, vede il ragazzo che ci dà sospetto, lo ferma, lo trova in possesso di piccolissime, piccole quantità di sopefacenti, vanno dalla cocaina alla marijuana e quindi poi procediamo per come la legge ci consente di procedere. Bisognerebbe essere più incisivi a monte, piuttosto che a valle. Volevo ricordare un arresto importante anche per estorsione, un arresto che le volanti non potrebbero organizzare per chi ci vorrebbe tempo. Invece in questo caso, grazie ai cittadini che hanno avuto sempre più fiducia di noi, voglio ringraziare anche tutti coloro che hanno contribuito con le loro testimonianze a far sì che si potessero arrestare in flagranza di reato, sottolineo la chiamata del cittadino che denuncia un'attività, l'arrivo immediato alle volanti e si confezionano l'arresto. Parlavo di un arresto importante, di estorsione. Un ragazzo viene qui, ci denuncia il fatto di essere stato derubato dai suoi documenti, organizziamo un'attività in due ore, gli diamo le monete, lo invitiamo a chiamare i suoi estorsori, organizziamo l'appuntamento, arrivano puntualmente, consegna il denaro e la presenza nostra in borghese all'interno del luogo che abbiamo scelto per realizzare questo arresto e quindi poi il fermo e poi l'arresto del responsabile. L'estorsione è un reato, insomma, loro sapranno meglio di me, che deve essere confezionato in maniera più organizzata. Nonostante ciò, in tre ore, come volanti, siamo riusciti anche a confezionare questo tipo di attività che ha condotto l'arresto, ripeto, all'arresto, in flagranza. Per questo non posso che ringraziare i ragazzi che non si sono tenati indietro neanche nel portare avanti queste attività che, ripeto, non pertengono alle volanti dal punto di vista proprio istituzionale come attività istituzionali. Dobbiamo anche dire che questo questore ha voluto in tutti i modi far sì che i cittadini si sentano tutelati e quindi vedere la presenza della Polizia di Stato ovunque a sostegno della legalità e soprattutto del diritto di tutela. Sorrido perché è stato l'imprescindibile punto di avvio per me aver incontrato il dottore Sanfilippo, il nostro questore, che mi ha dato davvero carta bianca nel controllo del territorio. non mi ha posto limiti, si è fidato ciecamente di me e quindi abbiamo potuto organizzare tantissimi servizi anche di notte anche con la presenza del dirigente in giro a scorrazzare per la città con 10, 12, alcune volte anche con 20 auto della Polizia quindi circa 40 uomini sul territorio che in fasi delicate in cui la città si è trovata coinvolta ci ha consentito di dire a tutti che noi ci siamo e questo ha garantito la nostra immagine e soprattutto ha posto nelle condizioni il cittadino di rivolgersi a noi con la tranquillità assoluta, la tranquillità di essere ascoltati per come poi abbiamo fatto nelle occasioni che c'è, in cui ci è capitato di lavorare. Un altro resto che mi viene in mente per esempio è una rapina impropria consumata da un cittadino extracomunitario sulla spiaggia creando un po' di spettacolo anche nelle operazioni di arresto tra i bagnanti in costume e questo per dire che ci siamo, ci siamo stati sulla spiaggia, ci siamo stati al centro storico, fuori città, nei vari quartieri edifici, al quartiere al granaio piuttosto che altri quartieri, non li nomino per non dimenticare tutti quelli che abbiamo attenzionato e che sono stati oggetto della nostra attività incessante, un controllo del territorio incessante che ha portato ovviamente i suoi frutti.